Al Palamanera di Mondovì andava in scena la sfida piemontese che valeva il pass per la finale di Coppa Italia di Serie 2 tra le padroni di casa dell'LPM BAM Mondovì ed il Fenera Chieri 76. Ci si aspettava una partita equilibrata e partita equilibrata è stata, oltre due ore di sfida nella quale ne esce vincente la squadra di Delmati al tiebreak dopo una partita entusiasmante nella quale sembrava di vedere una vera e propria battaglia di Serie 1. Primi due set molto equilibrati nei quali la spunta per prima la squadra ospite di Luca Secchi, l'ex di turno, ma rispondono subito alle pumine nel secondo riportando il computo dei parziali in equilibrio. Terza e quarta frazione invece dominata prima dalle bianco-blu con Angelina che si sveglia in questa frazione con 9 punti personali mentre il quarto è dominato dagli ace di Rivero, Bisi e Rebora che non lasciano scampo alle ospiti. Si gioca tutto al tiebreak con Chieri che parte meglio portandosi su 6-4, Mondovì risponde con 4 punti di fila e quando tutto sembra facile facile sull'11-7 per Mondovì Chieri impatta la parità a quota 11 ma sul finale Jessica Rivero segna gli ultimi 4 punti che consegnano il pass della finale all'LPM Bam Mondovì. Bisi MVP con 25 punti e Jessica Rivero con 20 trascinano così le proprie compagne a giocarsi con San Giovanni Marignano una storica finale di Coppa Italia di Serie 2. Sì è stata una parità molto difficile, lo sapevamo perché noi non venivamo qua con la consapevolezza che avevamo già battuto Chieri due volte venivamo qua sapendo che era una partita secca, che poteva succedere di tutto e diciamo che la differenza l'ha fatta tanto cuore e tanta testa e sono felicissima la differenza l'ha fatta tanto cuore e più Grazie a tutti.